Benvenuti a un nuovo episodio di InRisposta Stombo e oggi, beh, bang bang Un duello Un duello, oggi parliamo di Outlaws of Thunder Junction e Big Score Tutte e due? Solo uno in fondo, no? No, che casino, Simo, che casino Dai, dimmelo tu questo casino, sciogli tu questa... Praticamente Big Score sarà un extra shit che verrà inserito in questo set Perché doveva essere l'aftermat di Outlaws E invece è andato male l'aftermat Esatto, e quindi hanno deciso Va bene, allora, l'avevamo pensato così Ma ve ne mettiamo tutte dentro gli stessi pacchetti Quindi fondamentalmente voi comprate Outlaws of Thunder Junction E avrete all'interno dei pacchetti Insomma, delle carte che provengono da due set Tecnicamente sì Chiaramente allo slot in cui poi si può beccare quella che proviene da qualunque set No, quella della lista Giusto? Ma in questo caso proprio sono due set in uno È un po' una prima volta, vero Fabri? È una prima volta e probabilmente sarà anche l'ultima Perché è un casino, immagino Sì, cioè Io quando ho sentito questa cosa di Big Score Ero tutto Oh mio Dio, adesso? Cioè Cos'è? Cos'è? Sono una serie di carte Tra l'altro tutte mitiche Interessante Poi ne parliamo nel corso della puntata E alcune di queste faranno parte di questa classifica Con il buono, il brutto e il cattivo Ma hai voglia di spiegare come abbiamo selezionato Le tre carte per ogni colore Innanzitutto torniamo alla classifica dopo tanto tempo Quindi tutti i nostri fans Su tutte le piattaforme dove usciamo E dove ci sentite Dove ci vedete In caso saranno contenti Che appunto riapprocciamo una classifica al nuovo set Questa volta abbiamo voluto fare Questa è un'idea di Fabrizio Devo dire bellissima Appunto il buono, il brutto e il cattivo Più western di così Fabri si muore E abbiamo voluto dare al buono, il brutto e il cattivo I seguenti significati Ok? Quindi Per ogni colore Vedremo una carta che rappresenta il buono Che è una carta che secondo me è sicuramente forte Una carta che rappresenta il brutto Cioè una carta che sembra scarsa Ma secondo me sarà una sorpresa Ho una carta che è invece il cattivo Cioè una carta che ha molto hype Però in verità secondo me è scarsa L'hype è ingiustificato Hype ingiustificato per questa trilogia Per ogni colore Quindi partiamo dai cinque colori Più incolore E infine multicolor Dove abbiamo degli hot take interessanti Quindi rimanete fino alla fine Del episodio Ma vorrei farti una domanda così a brucio Poi partiamo col bianco So set ti piace? Sì Sì Punto Io guardo le carte Guardo se sono potenti Penso che in questo set abbia delle regole Molto interessanti Molto interessanti E quindi io credo che vedremo Un po' Un set Che ecco Cioè Metterà proprio un po' le basi Anche per il futuro standard Post rotazione Ma non solo Anche Pioneer Modern Ci sono carte che entreranno In tutti i set È un È Pieno di bombe Sto set Dai Io ti posso Io sono totalmente d'accordo È pieno di bombe Infatti Difficilissimo fare questa classifica Ne abbiamo selezionate alcune Ma ci sarebbero un botto Di altre carte Di cui parlare Io sono innamorato di sto set Mi piace anche l'Art Direction Sai che c'è Sarà che sono un fan Degli spaghetti western Che ci sono cresciuto da bambino Io premio anche il set in sé La storia ho leggiucchiato qualcosina E ho detto Minchia che figo Poi la vedremo nel dettaglio Con i PMR Quindi io a questo set Devo dire Fino alla settimana scorsa Ero un po' depresso Adesso che sono finiti gli spoiler Lo approvo E lo approvo così tanto Che mi sono già preso il preorder Su Fantasia Store Con Il codice SCOMBO5 Quindi un 5% di sconto Tutto il catalogo non scontato Di questo negozio Che è il nostro sponsor E che ovviamente Vi chiediamo di supportare Se dovete fare acquisti Appunto di prodotti sigillati Magliette L'abbiamo detto più volte Colori Per i vostri Non lo so Insomma Pupazzetti Dicono delle figurine Io posso chiamare Pupazzetti No no Miniature Miniature Di UoRAM Insomma Fate acquisti su Fantasia Store Col codice SCOMBO5 Oppure supportateci Diventando i nostri Patreon Riceverete a casa Delle carte firmate da noi E la nostra eterna gratitudine Nonché insomma Dei post Che fanno un po' Da spoiler E da contatto Con la nostra community Diciamo più affezionata Quindi Intanto ringraziamo Tutti i Patreon Che fin qui Hanno voluto abbonarsi A questo programma Per supportare Risposta SCOMBO E possiamo cominciare La puntata Fabrizio Con il bianco Partiamo con il bianco Così Con Leaven Interruptor Questo Uccello Rogue Cos'è già Farabutto Che costa 3 Di cui 2 bianchi 2-2 Flash Volante Che quando entra nel campo di battaglia Esilia Una spell Versaglio Che diventa Plotted Poi spieghiamo cos'è Plotted Le spell Che il tuo avversario Lancia dal cimitero O dall'esilio Costano 2 in più Per essere castate Attenzione Le spell Tutte le spell Non solo quella Che lui manda In esilio Mettendola In plot Zone Non so Comunque plot Dice Tramata In italiano è tradotta Come tramare Tramata Ok meglio Suona meglio Comunque La carta con tramare Quindi carta tramata La possiamo lanciare In qualsiasi momento Senza pagare Il costo di mana Ma a velocità Di sorcery Quindi vediamo anche Una meccanica Super interessante E solo In un turno In un altro turno In un prossimo turno In un prossimo turno Quindi Fondamentalmente Aven Interrupter Cosa fa? È Spell Queller Ma Intanto non ha Restrizione di mana Chiaramente Spell Queller È un po' più forte Perché deve essere Rimosso Per ridare la carta Questo lo ridà Subito la carta E questa carta Costerà 2 in più Finché Aven Interrupter Sul campo di battaglia Se no Chiaramente Insomma Costerà Zero Perché tramare Appunto Ti permette Di lanciare Una spell Senza pagare Il suo costo di lancio E detto questo La carta È davvero Molto interessante Come hai detto Tu fa Due cose Perché si può usare Anche come Semplicemente 8 Per spell Che vengono Dal cimitero O dall'esilio Ma in più Fa Insomma L'abilità La sua abilità Di quando Entra nel campo di battaglia È molto Molto forte Soprattutto Nei matchup Dove c'è il blu Perché se prendete Un counter Poi quel counter È spacciato È inutile Vedremo poi tra l'altro Un counter molto figo Dopo Va bene Il buono l'abbiamo visto Il brutto invece È un coniglietto Molto bello Qua abbiamo sbagliato Gli aggettivi Ma avete capito Il concetto Con claim Jumper Mercenario Coniglio Ci prepariamo Già il prossimo set Qua Leggo io Leggi tu Leggo io Dai Sono gasato sul coniglietto Te lo rubo Costa 3 Di cui 1 bianco Per un coniglio mercenario 3-3 Con vigilance Quando entra nel campo di battaglia Se un avversario ha più terre Di te Puoi cercare nel mazzo Per una carta pianura E metterla nel campo di battaglia Tappata Se Poi Se un avversario Ha più terre di te Rifai questo processo E Ovviamente Cercando la La library La dovrai poi Rimescolare Che dire Carta da commander In uno standard set Sì Però Commander material Con potenziale da gioco competitivo Senz'altro fare una 3-3 vigilance a 3 È qualcosa di interessante È chiaro che la condizione Deve essere rispettata Per renderla Molto più forte Di quello che è E la condizione In commander Ci sono più probabilità Che venga rispettata Però è una carta interessante E va a tutorare pianura Non terra basica Mi piace il tuo take Insomma Ti piace? A me piaceva Questo saltellante coniglio Invece Passiamo a una carta Sopravvalutata Quindi Buono o brutto Tocca al cattivo Che è uno spirito Il dust animus Leggo tutto il bianco Poi tu ti leggi tutto il blu Va bene? Va bellissimo Offeso Simo Questo 2-3 Questo 2-3 Con volare Costa uno in colore E uno bianco E Se controlli 5 o più Terre stappate Quando Il dust animus Entra nel campo di battaglia Entra con due segnalini Più uno più uno E lifelink Segnalino lifelink Su di esso E a tramare due Quindi puoi pagare Uno in colore E uno bianco Stesso costo di lancio E giocarlo successivamente Per avere 5 terre stappate Per fare un 4-5 A 2 Che entra di quinto Lifelink Bello Volante Tra l'altro Però Sì Concordo con te Fabrizio Niente di che Overhypata Ce ne ho lette di tutti Voglio pagare Overhypata anche perché Vende adesso Insomma 7 dollari Quindi non è Proprio poco Quindi Lifelink C'è intorno a sta carta Lifelink C'è Noi non ci crediamo Per nulla Dissateci nei commenti O in futuro Magari diventa la carta staple Ma la vedo dura Passiamo al blu Con il buono La prima carta È Three steps ahead Che è Una delle carte Con Spree Questa nuova abilità Che ti fanno scegliere Sono carte modali Costano Tot In questo caso Un solo blu E poi Se aggiungi un blu E un bianco Counter Se aggiungi tre in colore Fai una token Che è una copia Di un arte Fatta una creatura Che controlli Se aggiungi due in colore Peschi due E scarti uno Quindi fondamentalmente Voi potete fare A un sacco di mana Counter Faccio una copia Pesco due Scarto uno Se no Appunto Tutte queste modalità Qua Una carta Che anche qui Mi sembra che L'hype ci sia E che a me piace Effettivamente Certo Counter a tre Non è quello Che vuoi fare In una partita Di magic competitivo Però La versatilità Della carta La rende Molto Molto interessante Beh Se ci pensi Alcuni deck Di mir control Giocano Counter a tre E qua è un Counter super Versatile Secondo me È fighissima Sta carta Perché tra l'altro Puoi scegliere Anche tutte e tre Le modalità Se hai il mana Per farlo Quindi Fighissima Quando la pesca A fine partita Fa un casino Un cryptic command Per pioneer L'azzardiamo così E passando Da cryptic command Arriviamo Il ritorno Di Jace Spoiler Per l'episodio Della lore Lo sappiamo Ma Dovevamo parlare Di questo planeswalker A2 Jace Reawakened Che dice Che non puoi Castare Questa spell Durante il tuo Primo Secondo Terzo turno Del gioco Quindi fondamentalmente Si paghi due mana A parte che comunque Ci sono stati Molti utenti Che hanno detto Ragazzi La carta dice Your Quindi se io Ho le line Dell'anticipazione Appena ho due blu La posso fare Nel tuo Ok Perché non ci avevo pensato No Non ho letta Queste cose No Che figo Vabbè Se riesci a trovare Un modo O trovare un modo Per farla instant Puoi farla anche prima È a due blu Entra a tre Col più uno Pesca E scarta Con l'altro più uno Esilia Una non terra Con manavaglio Tre o meno E la trami E poi a meno sei Fino alla fine del turno Quando fai una spella Puoi copiare Puoi scegliere Più Un nuovo bersaglio Per la copia Allora È un place walker Ecco Il buono Il brutto Qua Siamo Sicuramente È un place walker Che entrando a due Il suo lavoro Lo fa Ecco Questo volevo dire Però non so Quanto Cioè Poi vedrà Vedrà il gioco Effettivamente Credo che In molti Comunque Mazzi Standard Questa carta Potrebbe vedere Sicuramente il gioco E poi chiaramente Il fatto di plottare Una carta A tre o meno Permette di imbrogliare Un po' Perché qui potete Plottare Valky E fare Tibalt Dall'altra parte Fa un sacco di roba Per due mana Da Valky A Jace Secondo me È super interessante Questo place walker Come ci dicevi tu Puoi anche Lanciarlo nel turno Dell'avversario Se trovi il modo Buono Il brutto Il cattivo Il non Snapcaster Mage Per Pioneer Proprio No Carta interessante Ma Overhypata Cioè Che casino Far lavorare Questa Cavalcatura Salamandra Sì Archmage Newt Chissà come si pronuncia Questa Parola Una Salamandra Che ha Seddle Quindi Si può montare Sapete che ci sono Delle creature Che fondamentalmente Sono anche Dei veicoli Però funzionano Da creature Normali Quindi in questo caso È uno blu Uno in colore Ed è una 2-2 E me ne raccomo una 2-2 Quando volete Però se avete 3 di forza Per montarla Tappate una creatura E Questa creatura Quando fa danno A un giocatore Una Instant A una sorcery Nella tua graveyard Ha flashback Fino alla fine del turno Il costo di flashback È uguale Alla Mana cost La carta Guadagna flashback Fino alla fine del turno Se hai montato Flashback 0 Flashback 0 Scusate Quindi fondamentalmente Sì È un modo Per fare Snapcaster Molto Complicato Perché bisogna Fare Dei danni Però In caso Si riesca A farli Cavalcando Questo tizio Questa salamandra Si potrebbero Lanciare Degli instant To the sorcery Molto Molto Costose A 0 Sì Ti direi Che questa È una carta Effettivamente Che c'è Dell'hype intorno Ingiustificato Ingiustificato Ma se tu fossi In questo mondo Di cowboy Fantasy Che mount Sceglieresti Cosa cavalcherebbe Akira Un bisonte Un bisonte Un bisonte Sì Mi dà l'idea Di un animale Che Akira Può cavalcare Akira Non il personaggio Sì No no Proprio tu Sanara Una motocicletta Un cappello Esatto Io invece Cavalcherei Questo bello spirito Che è Harvester Of misery Perché questa carta È fuori di testa Io penso Sia fuori di testa Sarà che gioco Discover Combo Ogni tanto E quindi Boh Che figata Non vedo l'ora Di testarla lì Però io penso Sia fortissima Questa mitica Che dici La leggo E poi mi dici La tua Spirito Siamo passati al nero Intanto ragazzi Quindi siamo di nuovo Con il buono La buona Ah sì Harvester of mystery Proprio nome da buono Costa 5 Di cui 3 incolori E 2 neri 5-4 Minacciare Che quando entra Nel campo di battaglia Le altre creature Prendono Meno 2 Meno 2 Fino alla fine del turno In più Se scarti L'harvester of mystery E paghi 1 incolore E 1 nero Una creatura Prende Meno 2 Meno 2 Fino alla fine del turno Fuori Fuori di testa Ti piace A me piace un botto Allora si chiama Of mystery Intanto Non mi scusa Ti correggo No è solo perché Sembra poi strano Fa appunto Un casino Fa bratta Quando entra Una miseria Fa una miseria La carta è forte Sì Hai ragione Comunque Come al solito All'interno delle carte versatili E le carte versatili Sono sempre belle carte In magic a 2 Fa meno 2 Meno 2 Comunque se la scarti Poi puoi trovare pure dei modi Per rianimarla Attenzione Mi interessa chiaramente capire Dove questa carta Avete da gioco Perché se c'è un field Dove ci sono tante creature piccole Che poi tu puoi una 5-4 Gli ammazzi E rimane appunto A 5-4 Minacciare Beh devo dire Che è una carta Molto molto forte Allora Io il primo Te l'ho detto Il primo applicazione È in Quintorius Combo Dove Da puoi giocare Al posto dell'incantesimo La virtù nera Hai una creatura Secondo me è interessante Avere la possibilità Di lanciarla prima Rispetto a pagare 7 In alcuni matchup Non dico che sia la carta svolta Però secondo me Mitica Davvero Preparata A Entrare in qualche formato Ora vediamo il brutto Che invece è una carta Che mi piace un sacco Ed è Tiny Bones The Pickpocket Questo scheletro torna Sotto forma di cowboy 1-1 Death Touch Che costa 1 nero Che quando infligge Danno da combattimento A un giocatore Puoi lanciare Target Non land permanent card Dal cimitero Di quel giocatore E puoi spendere Mana di un qualsiasi tipo Per lanciare quella magia Non è Ragavan Però mi piace No Allora Devo dire che Le nostre brutte Sono carte Che appunto Non sono ipate Ma magari Vedranno molto gioco Questa è una carta Che in verità È anche ipata Se vuoi Perché ha 30 dollari Riparte Quindi insomma Se la trovi Sei contento E io Nella mia Card review Ne ho parlato malissimo Perché secondo me Quest'affare Boh Cioè Ma quando funziona Poi soprattutto Perché nel È nel suo cimitero Non nel tuo Eh sì Ok Quindi Non so Cioè molte volte Ti troverai a Non poter lanciare niente Magari Che è un po' Come dici tu Di Ragavan No Però Ragavan è anche 2-1 Insomma io non sono Tanto convinto Fabri Però il commander È fortissima Il commander È fortissima E poi ha il death touch Simo Cioè Guarda Guadagna di questa roba Anche in late game Cioè tu hai un drop A 1 aggressivo Se mai tornasse Mono black aggro In pioneer Cosa che non succederà mai Però se mai dovesse succedere Questo sarebbe un drop Aggressivo Non picchia forte Ma ti permette di Potenzialmente fare vantaggio Secondo me è interessante Mi piace 30 dollari Ecco forse quello No Però Vediamo invece una carta Buono Il brutto Il brutto Il cattivo In questo caso Lo style investigator L'abbiamo portata Un po' per raccontarvi Qual è il problema Di big score Cioè big score Che era stato pensato Come set A parte A parte come era Aftermath Viene trasposto Dentro Outlaws E sono tutte mitiche Anche quelle che in quel set Sarebbero dovute essere Non comuni Come probabilmente Era questo Hostile investigator Che è una carta Mitica Cioè tu ci spenderesti Una wild card Mitica Per craftarla Uno nero Tre incolori Quando entra Il capo di battaglia Oppo scarta Una carta Ma manco gli guardi La mano Decide lui Quando uno Più giocatori Scartano Uno più Carte Questa E questa abilità Triggera Solo una volta Per turno Tu fai Un clue Perché investichi Cioè È una 4D Che se rimane lì La gente scarta Tu comunque Investichi ogni volta Vabbè Veramente È blood token Blood token Ah scusami Neanche investichi No investichi No dico Quando uno Sacca un blood token Ah sì 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 Per carità Non è che anche Se uno cicla Per esempio Perché ciclare Scartare una carta Poi vedremo una carta Con ciclo molto forte Però sì Cartaccia proprio Mamma mia Cioè Cioè È davvero Power level Da uncommon Va bene Possiamo passare Al colore verde E anche sul colore verde È stata dura Perché ci sono un casino Di carte interessanti Sicuramente Tutti hanno parlato Di smuggler Surprise Questo Instant Sembra forte forte Anche questo Con spree Tutte le carte con spree Effettivamente Sembrano Interessanti Uno verde E poi Con due incolori Fai Fai mille Fai mille quattro carte Anzi Macini quattro carte E puoi prendere Due creature O terre Tra quelle Che appunto hai macinato E metterle in mano Quindi fondamentalmente A tre potresti fare Un più due in mano Cioè un più due Un più uno in mano Quindi molto buono A cinque Puoi mettere due creature Dalla mano Alla campo di battaglia E a uno Le creature che controlli Con forza quattro Hanno Exproof E indistruttibile Questa è una carta Veramente difficile Da valutare Fabrizio Perché Quando costa poco Cioè due Fa poco E Sì Però hai Un tutore Un macello Quando fai Quando hai tanto male Fai un macello Fai un macello Fai davvero un macello E con due Comunque protegge Magari Un pezzo Non dico tutta la board Hai questa versatilità In più Che in commander È fuori di testa Cioè È una carta Bu È chiaro che è una carta Per commander Fuori di testa Sicuramente Perché per competitivo Però Anche in competitivo Ne parlano tanto Cioè Se ne parla un sacco Non la definiamo Overhypata Perché C'è la potenzialità Per fare cose davvero brutte Con questo Cavallo di Troia In stile western E Passiamo al brutto Il brutto È colossal Rattleworm Questa invece Ne ho parlata bene La mia carta Due verdi E due incolori Ha flash Se controlli un deserto Quindi basta Che tu ti inventi Un modo per avere un deserto E questa carta Avrà flash È una 6-5 Con trample Si fa 4 È grossa È grossa E poi Ha questa abilità Incredibile Mai vista Se è nel cimitero Ha 2 Come un instant Io non vedo Restrizioni Di alcun tipo La puoi esiliare Dal cimitero E prendi Cerchi la library Per un deserto E la metti E lo metti Tappato Chiaramente C'è I giocatori commander Con i deserti Saranno proprio contenti Di avere questa carta Tra le prime 7 No In generale No Perché tra le prime 7 Questa è una carta che Comunque arriva Gioca Muore E poi la esili E ti trova un deserto Molto molto forte Secondo me In competitivo Se si riesce a mettere I deserti nei mazzi Sono usciti I deserti interessanti Comunque questa è proprio Una carta forte Sì se ci pensi I deserti Di Amoncat Quello verde no Però quello bianco Vede gioco Quello rosso Vede gioco Quindi Quanto meno Un minimo di gioco Lo vedono Parlando di pioneer E Carta superfondo Forte Cioè per 4 mana 4 mana Fai sto 6-5 Travolgere Cioè neanche 6-5 E se l'hai scartato In qualche modo Ti trova un deserto A velocità instant Rampandoti Wow Cioè Tanto volore Tanto volore Tanto volore Tanto volore Tanto volore Fa anche il nostro cattivo Verze Bristol Boot Farmer Due verdi e due in colori Per una 5-5 Trampol Quindi comunque Grossa anche lei Però capito Quella di prima Stesso vara C'ha anche Rapidità Insomma giusto No scusate Ha un punto di forza in più Però a tutte le altre abilità Questo quando entra Invece Fa due foot token E Quando attacca Puoi sacrificare un food Se lo fai Macini tre carte E prendi un permanente Di quelle carte E lo metti in mano Quindi una specie di titano Vabbè Insomma Quasi Baccia piano Perché poi battaglia E fa una cosa Quando attacca Ne fa un'altra Ecco Però Non è una cosa Si Allora è forte Cioè Secondo me è una di quelle carte Che in passato uscirono E dice cazzo Che forte Ma poi Effettivamente Non combina nulla Quindi abbiamo fatto un po' Sta scommessa Sai che c'hai ragione Sai che c'hai ragione Secondo me questa qua Non combina nulla Perché è vero che ti dà subito value Con due food token Però Magari si vede anche gioco Perché ti servono quei food token E se non te lo uccidono Fai effettivamente value Nel corso della partita Se poi hai altri food token Te li trasforma in value Fa un sacco di robe Però Ho letto talmente tanti bei commenti Su questo cactus aggressivissimo Che dico raga Ma quante trappole Sì ma quante trappole Negli anni abbiamo visto Tu hai citato i titani Ma Quanto fa ridere Che adesso una carta così Nel magic moderno Dici Boh la mettiamo Nella sezione cattiva Fa strano Però vabbè Cioè i titani effettivamente Erano tanta roba Sono tanta roba Tutto Però almeno Uno è rimasto sicuramente Nella storia Ed è proprio di questo colore Ma passiamo al rosso Passiamo al rosso Quel colore qui Per la nostra classifica Il buono Carta sicuramente forte A me piace tantissimo Legend foundry Uno rosso E uno in colore Un artefatto Entra fa due pizze Dove vi pare Any target Creatura Uccide Blot at harvester Fa due danni che mancano A liliana Fa due danni che mancano Oppo E lo uccide Chi lo sa Poi A due in colore E lo tappate Sacrificato un artefatto Può essere se stesso E crea una 3-3 golem Ve li ricordate I golem di Blade Splicer Sono tornati Ma Questo sacrifica Un artefatto Cioè Ci sono Mille carte Oggi Che creano artefatti Molte sono rosse Io mi immagino Questa carta Anche in Pioneer In mazzi Midrange Che a una certa C'hanno il block token Ecco una 3-3 Hai un Treasure map token Un treasure Un map token Ecco altre 3-3 A me piace molto Questa carta qua E io penso Sia fuori di testa Cioè Secondo me Provo addirittura Così Allora Lo fai a velocità Instant A velocità Instant Mamma mia Non lo so Cosa Che te devo dire Cosa deve fare Di più una carta Non lo so Volevi che pescasse pure Per due mana Non lo so Io penso sia Super figa E super interessante Bellissima Mitica Forte Passiamo a una rara E qua Buono L'abbiamo visto Il brutto E questo Scorpide Drago Che è effettivamente Brutto È brutto anche Quello che c'è scritto Vai vai Costa 4 Per questo 7-7 Volare Travolgere Che prende Meno 1-1 Per ogni carta Nella tua mano Però Lo puoi lanciare Pagando 3 Di qui Uno rosso Con plot Lo puoi tramare A 3 E quindi Lo lancerai A 0 Esatto Quando non avrai Carte in mano Cioè L'idea è Questa Di questo Stingerback Terror Che non è una cattiva idea Poi è disegnata proprio bene la carta Un bel design Si trama a 3 Ma si fa a 4 Quindi comunque Al turno dopo Tu ce la potresti avere Senza pagare il costo di mana Se hai pagato Prima i 3 mana Ed è anche sinergico Se ci pensi Anche se hai doppia copia in mano Lo fai di terzo Plottando Di quarto Cali l'altra copia E giochi subito l'altro Levi una carta dalla mano E sono due draghi belli grossi Chiaramente Insomma In questa classifica Abbiamo citato Delle carte Che entrano E non fanno nulla E non ci sono piaciute Anche questa è una carta Che entra e non fa nulla Però Vogliamo scommetterci Dai Ci scommettiamo Sì Scommettiamo Perché può essere interessante Come top end In qualche mazzo Super aggroso Da capire il formato E Secondo me Io l'ho scelta Soprattutto per il design Cioè mi piace proprio Il design Della carta Andiamo a citare Va bene Passiamo A una carta brutta Però Questa volta È nella categoria cattivo È nella categoria cattiva Quindi è una carta cattiva Beh Effettivamente c'è tanta cattiveria In questo calamity Galloping Inferno Creatura leggendaria Che è una mount Ed è 6 mana Per una 4-6 rapida Che dice Che quando attacchi Se l'hai Appunto Montata Si monta uno Saddle uno Cioè Puoi scegliere Una creatura Non leggendaria Che l'ha montata E creare Una copia Tappata Che è Una copia appunto Di quella Sacrificare il token Alla fine Della prossima fase Finale Repeat This process Once Quindi lo fai Due volte Ok Quindi se hai Una creatura Molto figa Che per esempio Quando attacca Fa delle cose fighe Che non vuoi però Attaccare Perché dall'altra parte C'è magari un blocco E quindi Non vuoi perdere Questa creatura Guarda Sto pensando A una Inti Proprio Mi sembra interessante Perché 2-2 Poi insomma Beh anche Con Inter the battlefield Ti piace Che attacchi No Monti Sta a fare Lui è 4-6 Fa i due copie Beh no Però deve essere Non leggendaria Quindi mi dispiace Ma inti Non va bene Non leggendaria E beh L'effetto È Potenzialmente Forte Vale anche Spendere Sei mana Perché ha Ace Quindi puoi fare Un sacco di cose Ma Overipata Cioè è vero È forte Ma c'hai un sacco Di lavoro da fare E se vuoi scombare Fare robe sporche Ci sono carte Più efficienti Ora non so Magari in standard Ma in realtà Anche in standard Quindi per noi È un grosso No Cattivo Cavallo Infernale Rimani Nella tua Stalla De foco Ma passiamo A Il non colore Ovvero L'incolore Con Il buono Che Ormai lo sapete Io e Simo Siamo fan Delle spade Che suona sempre In maniera divertente E quindi Non poteva Non esserci The sword of wealth And power Io Fabrizio Devo comunque Comunicarti A mettere una cosa Che Sono un po' Deluso Dall'uscita Di questa Carta Sì perché Il ciclo delle spade Era un ciclo bellissimo Di magic Non l'hai mai detto Simo Davvero Non te l'ho mai sentito dire Funzionava Con i colori Non capisco Perché si è dovuto Andare Sulle Instant Sorcery Cioè Mi sembra una cosa Non necessaria Era un ciclo finito Si poteva Inventare un altro ciclo Non lo so Quindi Io sono molto arrabbiato Dall'uscita Ma è colpa del capitalismo È assolutissima chiaramente È anche colpa del capitalismo È forte Cioè Equipaggiamento Spada Quindi piace a tutti Ed è pure forte Perché Costa 3 in colori Con equip 2 In colori Come le altre Amiche Colleghe Ed ha Più 2 Più 2 Come le altre colleghe Ma questa volta Non dà protezione Dai colori Bensì Come ha detto Simo Dà protezione Dagli istantanei E dalle stregonerie Quando la creatura Infligge Danno Da combattimento A un giocatore Crea Un treasure token Quando lanci Il next Instant sorcery Questo turno Copia quella magia E puoi scegliere Nuove target Per quella copia Quindi fa rampare E in più ti Fa duplicare Instant sorcery Che lanci Successivamente È un L'effetto Da una parte È quello di Ragavan Ti tocca E fa un tesoro Che abbiamo visto Che è proprio Un effetto forte Soprattutto fatto Ai primi turni Qui chiaramente Non è fatto Ai primi turni Però Lo puoi passare Da una creatura All'altra Bisogna vedere L'altro effetto Fabri Perché se l'altro effetto Funziona Tu c'è un mazzo Fatto bene Eccetera La carta Qui è una carta Che esce Comunque A meno di 45 dollari Per ora In preordine Non la trovate Quindi la gente Ci sta credendo O è solo Una spada Il commander È molto forte Ribadiamolo Eh protezione Da instance sorcery Vai a togliere Protezione Da quasi Tutti gli spot removal Non tutti Ovviamente Però Dai una bella Protezione Su più colori Infatti questa Questa è una carta Che va Equipaggiata A una creatura Già forte Per questo Dico commander Però io penso Anche sia una trappola Perché la forza delle spade Era dare a protezione Dal colore E quindi renderla Anche imbloccabile Quella creatura Questo lo perdi Capito Questo tra l'altro Non mi piace Sono contro Basta Spengo il canale E risposta scopo Finisce qua E quindi Andiamo avanti Non è più la buona Questa Questa diventa la cattiva Però A nostra discolpa Questa è la buona Questa è la buona Questa è forte La brutta Vai con la brutta Che Che è Scusami Che qui Abbiamo fatto un cambio Giusto? Abbiamo fatto un cambio Abbiamo una terra Sì c'è stato un cambio Tecnico Dell'allenatore Akira E non c'è il nome Di questa terra Nel momento in cui Registriamo Ma è una terra In colore Che Appunto Ha Nome Suscrifol E Fomori Best Egg Vediamo se sarà Confermata Comunque questa terra Tappandola Aggiunge Un mano in colore Pagando tre In colori E tappandola E scartando una carta Ci permette di guardare Le prime X carte Del tuo mazzo Dove X è il numero Di artefatto Che controlli Metti una di S Nella tua mano E le restanti In fondo Al tuo mazzo In ordine Randomico Sottovalutata La carta Si dovrebbe chiamare Fomori Volt È una terra speciale Che non entra tappata E ti dà un mano In colore Effettivamente Però Non entra tappata Ti dà un mano in colore Non è leggendare Non c'ha sfighe Ok Qual è la sua forza A tre La tappi Quando ti pare Conta il numero Di artefatti E pesca Quindi già Siccome La forza di questa carta Secondo me È che Non dice Che devono essere Artefatti Quelle che trovi Eh no Esatto Quindi anche se tu hai un artefatto In gioco Tu attri Senza farti il danno Di Castell'Octo Eh Peschi Sì Sì Sei d'accordo? Sì Perché peschi uno Devi scartare anche Se hai più artefatti Ah scusami Scusami Devi scartare Eh sì Cioè paghi Tre Più lei Che tappi E scarti una carta Io volevo metterle Fastland Maledetto Simone Che tu hai detto Facciamo una paraculata Tu hai detto No che paraculo Che sei Fabrizio Di Omard Core A nostra discolpa Diciamo signori Che nelle incolori C'era poca roba O sbaglio Non ti deprimere così Simone È carino l'effetto È vero Anche se scarti No se scarti Chiaramente è una carta Molto normale Average Average uncommon Messa a mitica E quindi può stare Nella nostra classifica Ma passiamo L'importante Era mettere Tra le cattive La prossima carta Questo era lì Mamma mia Simone Quanto mi ha cazziato Perché a me Sta carta piace E invece a lui No E poi Mi ha convinto Abbastanza Leggo la JIT Falsa Non persa Falsa Costa Un incolore Equipaggiamento Leggendario Che si echippa A un solo Mana incolore Ogni qualvolta La creatura Equipaggiata Infligge Danno da combattimento Metti un counter Su Lost JIT Rimuovi un counter Dalla Lost JIT Per scegliere uno Stappi una terra Una creatura Non può essere bloccata Questo turno Oppure metti un segnalino P1 più 1 Sulla creatura Equipaggiata Vai Ripeto Io non sono un fan Di questa carta Ho voluto metterla Tra le cattive Perché è hypata Da tutti Tutti hanno parlato Della nuova JIT Ovviamente Del fatto che si possa Prendere da Urzasaga E quindi è un equipaggiamento Leggendario Che si equipa Uno Che se fai danno Mette un segnale P1 più 1 più 1 Cioè Questo fa Perché se no Poi non ti farò bloccare Con una creatura Ok Però Sì O se no Stappa una terra Immagino che La gente che la voleva Prendere da Urzasaga Avrebbe anche voluto Stappare Urzasaga Però in quel momento È morta Per prendere lo JIT No E Non lo so Cioè a me sembra Una carta scarsa Dimmi tu dove la vuoi usare A me piace Costa pochissimo E comunque Pochissimo è vero Non di soldi Però Costo beneficio Secondo me È alto Tu Tra l'altro dice Deals combat damage Quindi non ha un giocatore Quindi anche se la creatura Viene bloccata Si carica La JIT E quindi Segnaliamolo Però Perché comunque Blocchi il mio elfo di Lanuar Con la JIT Adesso l'esempio sbagliato Il mio tiny bone Muore La JIT Prende la carica E la posso equipaggiare Alla prossima creatura Che ho lanciato Oppure posso rampare Secondo me fa un botto di roba Cioè sappi terra Quindi rampi È bello Mi siamo confrontati Su queste due Sulle carte in colore Siamo stati un po' confusi Un po' come le trame Degli spaghetti western Ma adesso arriviamo Alle carte multicolore Dove c'è un sacco da dibattere Siamo abbastanza d'accordo Il core del set Dai Eh sì E quindi Signore Signori Il buono È una sorcery Pest control Questa è carta vera Carta Secondo me tra l'altro Multiformato proprio Andrà Un po' ovunque Un po' ovunque A punire Tutti quei mazzi Che fanno utilizzo Di token Tutti quei mazzi Che fanno utilizzo Di carte Che costano comunque Uno o meno Perché Pest control È una sorcery Da uno nero E uno bianco Che dice Distrugge Tutti i permanenti Non terra Con mana value Uno o meno Quindi Addio ai costrutti Di Urza Addio agli amuleti Addio a Sto citando per esempio Moderna Addio a Delver E a Darcy E a Un sacco di minacce Che si fanno Nel formato legacy Pioneer Pioneer Ne parlavo Con Vogue Con Vogue Che è gioco Addio È una carta da side Però non ho letto Il perché Secondo me Poi è così forte Perché effettivamente È una carta da side Le carte da side Tu le vuoi pescare Se effettivamente La situazione La richiede Perché quel mazzo Si comporta In un determinato Modo Molte volte I mazzi cambiano Proprio per non farsi Sideare contro Tu peschi Pesco control Contro un oppo Che non ti ha fatto Nessun permanente A uno Che cosa vorresti fare Te la vorresti mangiare La carta Giustamente Dici cazzo L'ho messa dalla side Mentre se pescava Una creatura Era meglio Due mana In colore Sicica Il nerf Il nerf Di questa carta Sono i colori Bianco e nero Se penso a pioneer Ok Che non si giocano insieme Sì Cioè O Azorius Per Questo è vero Però Hai temporal Lockdown Quindi non vedo Perché Splasharci il nero In uv control Solo per uccidere Convo Io parlo di pioneer Poi ti lascio parola Per gli altri formati E Convo Che non è neanche così forte In pioneer Quindi Non ce n'è neanche bisogno Il formato È recente E meno è forte Però Io penso invece appunto Modern legacy Vintage Questa fa Veramente i buchi Cioè Prende veramente Tantissime cose Anche minacce serie È Forte Cycling Cioè Perché mettere cycling È una carta già così forte Cycling Proprio su una carta da side È S Quello che vorresti sempre Io Credo questo Perché tante volte Mi ritrovo a pescare la side Nei momenti in cui Non mi serve È rosico E questa Ti dà una carta Tra l'altro È un costo Comunque voglio dire Onesto Si cicla a due A due Sei tra l'altro Carta fortissima Fortissima Va bene Passiamo alla carta brutta Delle multicolor Carta Carta estremamente Criticata Per l'art E invece io vi dirò A me mi piace A me questa deriva Cibi Come volete chiamarla Di magic Affanculo A noi che abbiamo fatto L'episodio scorso Dove eravamo un po' critici Io qua dico Massivi Abbracciamo il marketing Asbro Riempimi Di peluche Di loot La chiave per tutto Soprattutto per il mio cuore Che tra l'altro Non solo è un commander Che sicuramente monterò Magari in versione budget Ma è anche forte Sta carta La gente pensava Tutti pensano All'arte E peluche Ma non valutano la carta Per quel che fa Carta che Per ora Non si trova in preordine A meno di 45 dollari Quindi carta In che In teoria Insomma È una carta In cui credono in molti Una creatura leggendaria Un nobile bestia Che ha word 1 Uno in colore Carino Lo protegge un po' Lui è 1 2 Ok All'inizio del top keep Esili Lei Non hai detto quanto costa Ah scusami Un blu Un rosso Un blu Un rosso Un verde Quindi i colori temor All'inizio del top keep Esili le top X carte Della tua library Dove X È il numero Di tipi Di carte Che controlli Tra i permanenti Non terra Ok Quindi Ah e poi giocarla Fino alla fine del turno Questo turno È non Non il turno successivo Quindi Fondamentalmente fa Il nuovo modo Che il magic Si è inventato Di pescare le carte Quando c'era Light up the stage La prima volta Che tu esigliavi Ste carte E poi potevi giocarle No E Chiaramente Se hai tanti tipi Di permanenti Scavi un po' Nel mazzo Per trovare cose Ma deve rimanere in vita È un 1-2 È una carta Che il competitivo Secondo me Non lo vedrà Manco col binocolo Però in commander Wow È comunque Costa poco Tremana Commander È proprio Proprio forte È per questo Che il prezzo Sta là È comunque Tu hai Un affare Su cui qualcuno Dovrà buttare Una removal Che in fondo Hai pagato pochissimo Che già che È il primo upkeep Si è ripagato E poi può In commander Ci sono tanti tipi Di permanenti No? Eh sì Poi Sicuramente In commander Questa è super interessante Quel world 1 Fa alzare L'hype Per questo Per questa bestia nobile Quando comincia A pescare 2 3 A turno No Diventa Fuori di test Perché x Appunto le potete giocare tutte Le carte Fino alla fine del turno Sempre fino alla fine del turno Questa è la restrizione Però bella carta Bella carta Sfida al deck building In commander E in generale Bel design Per questo nuovo peluche Passiamo all'ultimo Hot take Di questo episodio Poi vi salutiamo E qua Ci andiamo giù pesante Perché il cattivo È effettivamente il cattivo Il buon oco Abbiamo voluto fare Un hot take finale Disastroso Chi lo sa È una carta che È difficile da valutare Secondo me Nei vari Meta Se non sono ben definiti Quindi potremmo sbagliare Potrebbe essere Questa sarà una carta Molto forte Però visto che appunto È il cattivo È oco Ne parlano tutti Stravende Cioè stravende Il prezzo è alto Perché lo vogliono tutti Noi vogliamo dire Che questa carta Deluderà le aspettative Vuoi leggerla? La leggo Però io dico Che a me questa carta Piace un botto Io te lo dico Secondo me è Giusto Comunque costa 4 Anzi E quindi spero di aver Sbagliato A inserirla Come cattiva Spero Perché secondo me È forte Comunque costa 4 Due in colori Uno verde E uno blu Per 3 di loyalty All'inizio del combat Nel tuo turno Oco diventa la copia Di una creatura Che controlli Fino alla fine del turno Però a Xproof Con la più uno Peschi due carte Se hai commesso Un crimine Se quindi hai preso Versaglio L'avversario I suoi permanenti Eccetera Scarta una carta Anche le spell Anche le spell Scarta una carta Altrimenti Scarta due carte Quindi se non hai commesso Crime Peschi due Scarti due Con la meno uno Mette un 3-3 Elk token E con la meno cinque Per ogni altro Non permanente Che controlli Crea un token Che una copia Di quel permanente Quindi Se io devo valutarla Sulle Più uno E meno uno Si protegge da sola Diventa una creatura Che è questa abilità Statica Secondo me È interessante E invece La più uno Come dire È situazionale Cioè il mio problema Con questa carta È capire Ok in che mazzo La metto Perché vuoi creature Vuoi interazioni E vuoi colori simic Infatti Secondo me È proprio quello Il suo problema È una carta Che Non è né carne Né pesce Fa un po' tutto male Ok Cioè Il tuo Dire è situazionale La più uno Secondo me è situazionale Anche il fatto Che lui si copi Perché se c'è Un abbordo Dall'altra parte Resistente Sti cavoli Che tu puoi trasformare In una creatura No Poi si difende da sola Sì Facendo una 3-3 Andando a 2 Allontanandosi Molto dall'ultimate Che effettivamente È una cosa forte Se hai dei permanenti Comunque non leggendari A terra Quindi ci sono un sacco di sé In questo oco Di certo Il sé più grande Secondo me È il colore Blu-verde Non credo che appunto Sia il vecchio blu-verde Che eravamo abituati a vedere Quando c'era il suo fratello Minore Non so come puoi chiamarlo O maggiore Per power level Però è sicuramente Una carta Che in commander Giocarei tutta la vita Non è che dico di no Sì Io forse Sinceramente Neanche in commander Se lo penso in costruito Non so Dove piazzarlo Però mi piace la carta Mi piace Novo Oco Design è figo Però Sono d'accordo con te Fa tutto un po' così Approssimativo E ci sta Per evitare Un altro oco Winter Cos'era inverno Autunno Credo che sarà stato Un autunno Un autunno Un autunno Autunno Va bene Allora Tra Comunque insomma Decisioni E hot take Decisioni condivisibili Hot take Anche questo episodio Anche questa classifica Che risposta a scombo Finisce qui Vi ricordiamo Come sempre Di valutare I nostri episodi Se potete Con un mi piace Su youtube Con un voto Su Spotify Spotify E possiamo Provvedere a leggere Uno dei commenti Dell'ultimo episodio Che come sempre Insomma ci fa piacere Sentire la vostra voce Sentire i vostri feedback Sentire quello che Avete da dirci Episodio che tra l'altro Vi ringraziamo molto Perché È andato molto bene Di solito I nostri episodi Come si dice Sciacchierati Non vanno tanto bene O almeno quello in cui Vediamo i ricordi Eccetera Ma questo episodio Con questo titolo Cioè Magic non ha più nulla da dire Parliamone Vi ha convinto E Che dire Facciamo youtube Da un paio d'anni Simo No Ci sono tanti commenti Da leggere Ce ne sono Tanti Insomma Sì abbiamo creato Un sacco di dialogo Che era un po' Quello che volevamo fare Non volevamo neanche essere Polemici a gratis Quindi abbiamo dato Un po' Di Nostre Valutazioni Ovviamente Il contenuto E il titolo Ed era da youtube Più che da podcast Ma permetteteci ogni tanto Così di Tirare fuori La nostra vena Creator Mentre oggi Come dire Classica classifica No Simo Però Posso dire È stato bello Dibattere con te Su questo set Che mi piace così tanto Cioè io Ho hype a manetta Bene Bene Sono contento Però il commento Non me l'ha fatto leggere Voglio leggere Ti stavo dando il tempo Di cercarlo Invece Ringraziami Ringrazio Luca Valletta 399 L'impressione è che sia stata Un'occasione sprecata Si poteva lavorare Sull'idea della frontiera Fare un paragone Tra un piano senza storia La conquista della frontiera Come terra da scrivere In più Aggiungo Sono tre set Che Wizard Utilizza piano in maniera strumentale Questo è molto interessante L'ho fatto con Ixalan Gli serviva un set Su un mondo sotterraneo Hanno pensato Di sfruttare Ixalan L'hanno fatto con Ravnica Gli serviva un set Con tensioni sociali Hanno sfruttato Le gilde di Ravnica E ora questo piano Che risulta piatto Nel set precedente Poi torniamo su Eldraine Penso che Blomburo Avrà un meraviglioso Worldbuilding Per il momento Partendo da March of the Machine Mi sembra che sia stata Un po' di superficialità O trascuratezza Su questo aspetto Per par condicio Ne leggo comunque Insomma Uno Magari positivo Perché Se non sbaglio C'è chi comunque Mi è piaciuto Si non è d'accordo Esatto Cioè Non lo trovo Quindi Mi devi dare La pausa No no Ce ne Alcuni commenti Sono stati davvero Tanti commenti All'episodio Come Cioè Siamo contenti Di questa cosa Io sicuramente Rispetto a quell'episodio Rettifico un po' Il mio poco hype Per questo set Ma Continuo a dire Che si È piatto Cioè Occo col cappello Da cowboy Ce l'ho qua davanti Il commento positivo È di Alessandro Cattaneo 962 Eppure molto simpatico Salvo l'Occidente Il libero mercato Da Akira L'ora del set Da cowboy E ci sta Con questo vi salutiamo Grazie per averci ascoltato E ci vediamo la prossima settimana Risposta a scommo Finisce qui